Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale io sono Dax678 e benvenuti in un nuovo episodio di Metal Gear Solid 590 Pain che purtroppo è finito perciò è meno utile che tipo ste cazzate e benvenuti in un nuovo episodio di Fortnite allora ragazzi come sempre vi chiedo di iscrivervi se non mi piace e commentare quindi vi dite i colori amici attivate la campina e iscrivetevi al canale che mi siete in giustizia e rispondete per scene selvaggi io ho tutti i episodio di Metal Gear Solid 590 Pain di Fier1 ehm Metal Gear Solid 590 Pain di Fier1 ma perché sto dicendo le stesse cose? Metal Gear Solid 590 Pain è finito Fier1 è finito manca Fier1 Personals Mandate cioè vabbè l'episodio di Fortnite alla fine è un multiplayer quindi non c'è una campagna e... ah sì tra poco avrò un nuovo gioco da portare come serie sul mio canale quindi... è un nuovo gioco con cui porterò tutta la serie nel senso uno, il primo, il secondo, il terzo, il quarto capito con questo intendo però ovviamente inizierò dal terzo e da come l'ho detto sembra che dove inizi... si finisce già subito che inizierò con... Far Cry 3 ok, allora... dentro questo io direi che possiamo anche vederci tra poco, ciao ragazzi a tra poco non ci vediamo... non ci vediamo... non ci vediamo... Grazie a tutti. Ok. Allora, sinceramente non ho visto che cavolo è successo al posto perché è tutto pieno d'acqua. Ok, non si vede niente. Non ho capito per quale motivo, però vabbè. E niente. Ok, aspettiamo che cavolo, perché sta facendo un attimo, però ti non so, per quale motivo. Ok, ci sta un bel po' di roba nel negozio, però non posso comprare perché non ho abbastanza a stai qui. Costume ombrello. Ma veramente posso modificarlo? Gratuito? No, non lo sai che do la pistola per un passo di battaglia. Non lo sai che ti dicevo. Sarebbe stata una figata di niente, purtroppo. Bisogna che sia questa che ho fatto la paglia. Va bene, e niente, devi andare in singolo e finirà facendo una. Aspetta, armadietti, voglio cambiare, però se sempre successe in versione così. Ok, proviamone una, vediamo un po' cosa ho modificato. Cioè io sinceramente lo sto appena giocando, non ci ho mai giocato, mi adoro, e dopo tutto si è visto anche perché c'era la cosa, come si può chiamare, il trailer, tipo, non lo so, il trailer della stagione 3 di Fortnite, quindi non so di preciso di cosa si tratti. Tanto sto notando, c'è qualcuno lei, ma non lo conosco. Ok. Direi di andare. Vediamo che si faccia la cosa qui. Devo ricordare, quella volta là, che sono caduto dal balcone da piccolo. Sono caduto dal terzo fino al secondo piano, ed era alto più di due metri, questo è ovvio, più o meno sui 5 o 6, 5 o 6 metri più o meno. Ma la mappa è... Cos'è successo alla mappa, è pienamente di acqua, cioè che ca... BOOM! Che altro sono curioso, nel mezzo, cosa hanno messo? Che di solito nel mezzo mette una qualcosa, comunque. Ovviamente c'è sempre un inserito emoji. Non so come l'avranno tolto in un attimo, non si è pregata in mano. Niente. Cioè, ragazzi, è tutta piena d'acqua. Che cacchi è successo? Ho capito solo che c'entra una cosa con un tondino, tipo, non so poi. Guarda cosa c'è lì! Ma cosa? Ma è piena d'acqua! Vabbè, ma cosa è successo a questa mappa? Non so se l'hanno nominata o l'hanno fatta bene, non lo so, non so cosa dire, sinceramente. Beh, penso che sinceramente sia, voglio dire, sta mappa sia fatta riguardo all'estate. Visto che ormai siamo all'estate, hanno messo tutta una cosa piena d'acqua. Ma per quale motivo è successo tutto ciò? Questa è la mia vera mano, ora, in sé. Per porca miseria, è piena! Sai che se lo stavo in sabo, sinceramente? Stavo in sabo, quello lì che diceva Stasera! Si inzuppa il biscottino! Si in porno al confettone! Mi faceva tutto il video. Più di... Vabbè, credo abbiamo trovato la mia pistola, però non ci facciamo molto. Siamo qui. Ci abbiamo due pistole, ma dai, me l'ha preso per il culo! Cos'è questa? Cos'è una specie di fucile a pompa? Ok! Un porno non è andata così. Aspetta, sta arrivando qualcuno. E' qualcuno dentro casa. Intrusi dentro la mia casa. Ok, mi è andato. Sì. Ok, ci si può lui. Ho perso un po' di vita, sinceramente. Quindi vorrei fare un po' più attenzione. Allora, come inizio non è già male. Abbiamo già due kill, quindi... Molto bene. Abbiamo anche dei fucili. Quello non c'è, non ne ho tant'altro. Questo toglie... No, qui. Prendiamoci pure le granate, queste che non le prendiamo mai. Non so mai. Ok, c'è qualcosa. Ah, qui non c'è niente. Non ci si è niente. Rompiamo qui sopra. Non ci si è niente. ho messo un po' male ma aspetta, stai in un luogo su la calentrata la seconda è entrata questa è tutta una cosa di la scuola la scuola la scuola la scuola Ok Eh niente sono morto Che silenzio raga Mua mia Eh niente è andata male purtroppo Vabbè ne proviamo un'altra Ci vediamo tra poco E alla fine eccoci con un'altra partita Questa vada mai io dall'ultima volta Vabbè dai non siamo andati male l'ultima volta Abbiamo ci siamo fatti due decisioni belle e buone Quindi nominamento Ultima però è stata un po' rischiosa Perché aveva lanciato la granata Scusa non ci potremmo andare No, non c'è la granata ma ammazzò la sola Praticamente Vabbè, ultima non ci Voglio andare a vedere cosa c'è nel mezzo Perché sinceramente fò curioso Cioè che cacchio è successo Non lo so Però vediamo un po' Cioè vada meglio Vediamo uno sta venendo E non mi sta bene Da uno sta venendo E non mi sta per niente bene Levate l'Italia T'ho paura Ah ci sono di nuovo quei schagnozzi Attenzione Ok, non c'è Ok, non c'è falta tanto danno eh Ok, non ci ho fatto tanti danno eh E dobbiamo dare il film sopra C'è un po' di paura sinceramente eh Perché è tutto rischioso qui Mi sta preso un colpo e ho detto Mi stanno sparando a Mego Qua c'è una cassa di bello scansione, però non possiamo nemmeno usare. Qui non c'è niente, c'è un'illipata di pasta. Qui invece? Non c'è il suono praticamente. È cambiato molto eh, l'ultima volta. Sicuramente è molto cambiato. Sto continuamente basso perché ho continuamente paura che non mi arriva qualcuno e ammazza le spalle. Chi è che hai parlato? Scusate. Ok, non tiro la cina che non è male. Basta. Alla? Alla vaffa? Alla? Alla vaffa? Ficca tanto, mamma mia. Alla meno. Mamma sta musica mi sta sentendo pure ansia. Ah, di qua si sale, non si scende e noi si prenderemo una notte in faccia. Tanto dobbiamo tagliare tutte le stesse due cose che non sono assolutamente niente. Ok. Qua, apriamo la cassa. Qua, apriamo la cassa. I cedini. Vai. Non mi piace. I cedini. Eh, sì, vabbè, da tutte le parti, guarda. Aia. Sai che stanno sparando a me? Sì. Non ne so sicuro, però, eh. una. No, ho aperto tutto praticamente. Non è usciata niente. E' vero tutti i tocchi dove l'avevo fatta anch'io. Ok, quello vabbè è una mambolla, però non so sicuro di quello che c'è nel senso Eh vabbè, ci stiamo ne schiena tantissimo Cioè ci stiamo morendo per degli scagnozzi Che vi ricordo che nella seconda stagione eravamo noi gli scagnozzi Quindi facciamo abbastanza bene Pura bomba Ma che c'è? Ok Ma è difficile che fare, è un fucile a pompa? Non sembra tanto un fucile a pompa, però... Allora, intanto mi ne ho scissato Facciamo questo Ho fatto quella bomba, scusate Oh Bodo Mi fa male Buona Lo sapevo Ok, andiamo avanti Qui ci sta una cosa molto brutta Cacchio Non capiamo se quello lì era un bot oppure una persona vera Un altro cellulito Pia 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 che buono Ok, la safe in questo momento ancora ci sono vecchio Bene Ci stanno i nemici qui, eh Ed è umano Non è bot Eh, molto peccato Sì, vabbè, cos'è sta roba? Ma da dove sono fatti quegli imbecilli? Cioè, scusate What? Nasconditi Ok, sì, funziona Porca miseria, raga Porca vacca Che cacchie sono quei cose? No No No, queste cose no No Vabbè, ragazzi Scusate, sorlato Ero rimasto con nove di vita Ma stiamo scherzando Ma era presa per il culo Ma dai Che pizza Nove di vita Ma perché sempre a me Deve succedere queste cose? Quando io sparo Li lascio sempre con uno spunto di vita Era presa in giro Vabbè, ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi al canale Lasciate piace Commentate Con il video Come lo smisci Attivate la campanina Iscrivetevi al canale Che mi è stato in descrizione Rispondete per i miei storaggi Noi vedete episodi Di Metal Gear Ancora Noi vedete episodi Di Che era Perso lo fanate E Ok E Che altro E di Non mi ricordo cosa Assi Volevo portare Farfall 3 E non vi vedete Episodi di Farfall 3 Ciao ragazzi Ciao